Oh, ma che stai a farla? Chi ti ha fatto entrare? Ciao mio, ho trovato il cancello aperto, sono un influencer! L'influenza? Pure l'influenza c'hai? Che mi fai male a tutte le galline, vatti via! Ma no, ma cosa hai capito? Sto facendo le foto alla patata! Le foto alla... brutta zozzona di città! Vatti via, se no te ne hai quella rastrannata! No, no, ma no! La patata! No, no, no!